Lei è un architetto specializzato in illuminotecnica e ne ha accennato all'interno del convegno. È una disciplina un po' particolare, ce la puoi spiegare in alcune righe? Molto sinteticamente. La luce, che è anche un materiale artistico, perché si parla sempre di luce nell'arte, è anche un materiale progettuale, cioè quando si fa il progetto di un museo o dell'allestimento di un'area archeologica, ma anche di un ufficio, di un negozio, la luce non è semplicemente ciò che ci permette di vederlo, ma anche ciò che crea l'atmosfera in quell'ambiente. Un ambiente come una palestra, con quella luce, anche quella che vediamo qui, molto fredda, molto verticale, ci rende l'ambiente sgradevole, poco accogliente, un ambiente con luci calde e più soffuse, anche lo stesso ambiente diventa più accogliente. Quindi la luce è uno strumento per modellare gli spazi senza modificarli strutturalmente. Lei, l'hanno ricordato nel corso del convegno, è vincitrice del premio Silvia Dell'Orso e del premio Chimera d'Argento, che sono due premi abbastanza importanti nel suo campo che le riconoscono il lavoro nel campo artistico. Io ho letto il commento alla vittoria del Silvia Dell'Orso, mi sembra. Come è realmente ricevere due premi di questo calibro? Beh, soprattutto il Silvia Dell'Orso, essendo specifico sulla divulgazione dei beni culturali, per me è stato molto importante perché, avendo appunto io questa formazione un po' anomala, perché ho fatto il dottorato in fisica tecnica, ero un illumino tecnico, lo sono ancora, insomma, ero arrivata all'arte in una maniera non ufficiale, come Kim, cioè una laurea in storia dell'arte. Per cui in qualche modo mi sono sempre sentita, come dire, un po' abusiva, ho sempre avuto un po' di timore nel non avere quello stesso tipo di formazione che forse la materia chiederebbe. Ma il fatto che un ente come l'Associazione Silvia Dell'Orso mi abbia dato questo premio, tra l'altro mi hanno detto che è stata data all'unanimità su oltre una sessantina di partecipanti, per me è stata una legittimazione importante, perché ho capito che quello che facevo non erano fantasie estemporanee, ma aveva una solidità e una correttezza, una scientificità.